su youtube sono arrivati finalmente i podcast è quella che può sembrare una cosa molto banale che ci aspettavamo che è il ritardo in realtà è una delle caratteristiche più interessanti di questi ultimi mesi non i podcast in sé che tra un po vi mostro esattamente come si fa perché ho il tutorial ma l'evoluzione che youtube sta facendo perché sta anticipando il futuro e già nel futuro ha visto qualcosa che tutti gli altri ambienti sociali non hanno visto e siccome ogni volta si dice che youtube è morta si dice da dieci anni perché nasce qualcosa di nuovo e poi vedi le statistiche youtube è sempre lì e sempre tra le prime voglio contestualizzarvi questa notizia prima di darvi il tecnicismo qual è la visione qual è la strategia che stanno adottando perché hanno visto lungo e siccome questa tv del mondo è l'unica che lo sta realizzando credo che un attimo per chi si occupa di queste cose che siate creator o brand o aziende mi dovete un attimo concedere questo piccolo passaggio teorico che tanto teorico non è youtube che cos'è che ha visto nel futuro ha visto le nuove generazioni che cos'è che stanno portando le nuove generazioni una cosa che noi non riusciamo a vedere noi proprio non ce la facciamo ed è il paradigma che fino al 2022 abbiamo raccontato come persone esperte di internet abbiamo detto sempre a tutti quanti attenzione non dovete stare in tutti gli ambienti sociali non dovete essere per forza presenti ovunque dovete essere presenti in determinati ambienti dove vi trovate bene questo vale tuttora ma c'è una piccola novità la piccola novità è che le nuove generazioni sono più propense a passare da una parte all'altra e sono più multitasking ora il multitasking non inteso come faccio tante cose contemporaneamente ma riesco a vivere tanti ambienti sociali contemporaneamente in modo forte e riesco a starci e a non essere troppo affezionato o affezionata a qualcuno in particolare questo è un cambio molto importante che i brand devono tentare di capire e youtube è l'unica che l'ha capito ed è l'unica piattaforma l'unico ambiente sociale che ha compreso che la nostra creatività come proprio come creation è da un'altra parte è arrivata proprio ad un altro livello che è quella del multiformato e quindi sta facendo qualcosa di unico da questo punto di vista da un lato consente ai creator di esprimersi nel formato che vogliono e quindi i podcast non sono qualcosa in più che si appiccica attenzione perché c'è questo errore purtroppo che viene commesso sono qualcosa che viene fornito ai creator per esprimersi in modo migliore tante persone fanno podcast e youtube vuole ospitare sia chi fa podcast sia chi fa live sia chi fa video on demand shorts e qualsiasi tipologia di contenuto qualsiasi tipologia di creator che arriverà nel futuro su youtube troverà la propria casa questa è la visione di youtube youtube è la casa per i content creator e in qualsiasi formato è una visione totalmente differente da tutti gli altri e la visione ovviamente della casa madre che non ha interesse a sviluppare una singola cosa ma ha interesse a sviluppare un ecosistema è proprio una questione di visione aziendale e lo dico perché ne conosco tantissime ormai le studio da tanto tempo la casa madre alphabet ha questa visione ovunque è proprio una visione diversa quindi i podcast non si appiccicano e le nuove generazioni sono meno fidelizzate alla singola piattaforma mentre un tempo quindi per fare un esempio chi era su twitter era molto affezionato a twitter e non gliene fregava niente di andare su facebook e viceversa le nuove generazioni non solo non vanno su facebook e non vanno su twitter seguono per esempio facciamo un esempio youtube e dopodiché sono disposte a seguire anche instagram anche tiktok con lo stesso livello di attenzione per quanto riguarda proprio la piattaforma e questo è molto importante perché fino ad ora non era mai successo e tutte le attività di marketing ci dicevamo attenzione dovete essere potete andare molto bene a selezionare oggi è un po diverso significa che i brand devono farsi altri tipi di domande e una delle domande più importanti che comunque vale sempre quella dov'è che posso fare la differenza dov'è che so fare la differenza dov'è che posso veicolare i valori del brand dov'è che ci faccio brutte figure quindi attenzione non è cambiato tutto quello che ci chiedevamo prima quello che ci chiedevamo prima vale è importantissimo chiederselo quello che sta cambiando e cercare di capire se ci sono più ambienti dove possiamo essere presenti con lo stesso livello qualitativo questo è un cambio di paradigma molto molto forte perché l'attenzione che queste nuove generazioni hanno la hanno su più ambienti cosa che noi diciamo come generazioni passate non avevamo molto di meno e youtube sta anticipando questa mossa qui sta anticipando quindi la possibilità di dare il multi formato ai creator lo sta facendo tanti anni e sta anticipando la voglia delle nuove generazioni di essere multi ambiente multi piattaforma quindi guardate che un cambiamento molto grosso di visione rispetto a tutti gli altri non prendete la sottogamba nelle vostre strategie di digital marketing sia che siate dei content creator o dei brand aziende eccetera eccetera ma ora vi mostro come si può creare un podcast su youtube per creare il podcast si può andare da create e vediamo quante cose si possono fare proprio a sostegno del fatto che ormai siamo multi formato oppure che è la via più semplice e immediata su content cliccando su content ecco qua quante tipologie di contenuti oggi possiamo fare su youtube e ovviamente ognuna poi c'è anche le statistiche separati in analytics eccolo qua la voce podcast facciamo new podcast quindi andiamo a crearlo allora fast letter così poi vediamo anche come si vede fuori semplicissimo per andare veloci il podcast della fast letter e aggiungiamo anche ovviamente il sito eccolo qua pubblico infatti il titolo è molto importante perché ci dice di usare il nome ufficiale in modo che possa essere poi scoperto e infine abbiamo la thumbnail andiamo a vedere quelli che sono i requisiti facile facile 1280 per 1280 per quanto riguarda le dimensioni in termini di peso invece 10 megabyte e poi per i formati di file jpeg oppure png o gif vado a prendere la thumbnail che ho già preparato la carico qua perché ce l'ho e ci siamo andiamo a fare ora create vediamo cosa succede eccola quasi presente in questo modo vediamo cosa è successo siamo in video quindi possiamo aggiungere gli episodi caricando direttamente un video oppure andando a prendere quelli esistenti noi prenderemo quelli esistenti perché ne ho alcuni dopodiché abbiamo dettagli analytics questo mi fa molto ben sperare perché la cosa importante è avere gli analytics separati quindi bello ovviamente ancora non c'è niente perché non c'è nessuna questione del podcast abbiamo visto l'immagine che si è caricata ok abbiamo i dettagli andiamo a vedere cosa succede cliccando su dettagli ok i dettagli praticamente sono quelli generici del podcast veramente semplice è molto interessante l'ordine dei video per data di pubblicazione molto bella questa mi ok ottimo per poter andare a decidere qual è l'ordine credo che sia un'opzione interessante ok questo è view on youtube andiamo a vedere come viene o bello probabilmente qui manca il logo credo andiamo a vedere cosa accade caricando i video che già io ho perché ho dei video della fast letter quindi cliccando su video mi fa ok devo fare l'upload in questo caso quindi da qui posso selezionare un file e fare l'upload oppure posso aggiungerli andando a metterli nella playlist perché a questo punto vuol dire che per ogni podcast lui ha creato una playlist vediamo se è vero torno indietro in contenuti del canale podcast eccolo qua quindi io posso creare più podcast da questo punto di vista infatti quando ne ho creato uno posso andare su create e fare new podcast e mi riappare qua facciamo un esempio giusto per ne metto uno di prova poi lo cancelliamo prova prova andiamo a mettere un'altra icona a caso mettiamo la mia faccia che ce l'ho facile da caricare ok create giusto per vederlo poi lo mettiamo ok mi ha ricreato eccolo qui il podcast andiamo su podcast ora se ne trovano due perfetto ok questo ora lo possiamo rendere semplicemente privato così sappiamo che non succede niente ma ora andiamo a cercare di capire come caricare un contenuto perché è vero che c'è i podcast ma ancora non abbiamo capito come fare non l'upload perché l'upload è sostanzialmente da questa pagina faccio upload ma poi abbiamo visto che posso caricarne uno nella playlist quindi vuol dire che se io ora vado in contenuti playlist eccolo qua mi trovo praticamente la playlist dettagli ok quindi in questo caso per farlo posso andare direttamente nei miei contenuti se ho fatto per esempio voglio aggiungere un vado in video perché è un video non è una live posso andare a trovare i video e aggiungerli alla playlist questo è il video vado semplicemente ad aprire il mio video ok vado nel video che faccio prima ok clicco su tre pallini me lo salvo in fast letter podcast ok ora che l'ho salvato andiamo a vedere nella playlist ufficiale è comparso eccolo qua andiamo a vedere ora nella parte dei contenuti quindi in podcast cosa quando vado nella fast letter video count ancora a zero ok entriamo nella playlist videos ancora non lo ha individuato forse ho sbagliato perché ah no eccolo e ci ho messo tre secondi ok e qui abbiamo le view e tutte le informazioni in analytics inizia a comparire in modo molto interessante lo vediamo eccolo qua che cosa sta succedendo i contenuti del podcast questo è molto molto bello da questo punto di vista torniamo un attimo indietro andiamo sempre su podcast i nostri podcast eccolo qua video count 1 ha iniziato a contarli andiamo a vedere di aggiungere altri tipologie di video che fanno parte sempre del podcast della fast letter vediamo se riesco a trovarli facilmente da questo punto di vista per trovarlo io avevo proprio creato una playlist che si chiama la playlist proprio della fast letter a questo punto mi conviene andare sul canale playlist e trovare quella della fast letter eccola qua clicco e mi ritrovo la fast letter a questo punto perché l'avevo già fatta prima mi vado ad aggiungere tutti questi video al podcast nuovo e aggiungiamo fatte l'avevo già fatto abbiamo previsto questa cosa ovviamente la stavo aspettando ok ora ritorniamo nella nostra dashboard di controllo quello qua content podcast ok eccolo qua se video count le ha trovati io qui ho la possibilità di andare a fare una serie di cose andiamo sui video ho tutti i video del podcast eccoli finalmente sono ordinati in analytics incominciamo a vedere cosa sta succedendo ok ha iniziato ad aggregare ovviamente sono negli ultimi 28 giorni ho solo questo perché il podcast non è stato prodotto diciamo con regolarità se vado a mettere gli ultimi 365 vedete quanto è tanto che non faccio anche il video della fast letter però abbiamo tutti i dati posso mettere ora dall'inizio per far vedere quanto visualizzazioni ha fatto che watch time revenue quindi posso vedere le analitiche dettate proprio veramente molto molto bello da questo punto di vista e perché posso avere i dettagli del podcast la audience e le revenue proprio nel dettaglio e quindi andare a vedere i video e andare nel details con le cose che abbiamo detto del podcast su youtube mi ricco eccola qui la la playlist dedicata al podcast è proprio dedicata a questo è proprio un podcast lo vediamo che youtube ce lo dice ah sì un piccolo dettaglio che mi ero quasi dimenticato è la migliore analitica al mondo per podcast perché giustamente hanno un sistema su youtube analytics fantastico e per tantissime cose è la migliore analitica dei video e quindi direttamente ereditano davvero un knowledge pazzesco da questo punto di vista se invece voglio passare dall'upload direttamente basta che quando faccio create faccio upload video ora ne carico uno a caso cos'è che succede invece che inserire il video dalla playlist direttamente quando lo carico posso selezionare la playlist e attenzione attenzione eccolo qua mi dice che è un podcast una volta che ho finito il mio upload dei miei podcast eccetera eccetera come faccio a metterli in evidenza sul canale ancora non ho la possibilità di mettere in rilievo perché youtube sceglie video shorts e live come i tre contenuti principali c'è playlist con tutte le playlist posso aggiungerla magari qua e andando a modificare sostanzialmente il canale ovvero vado nella parte delle sezioni e a questo punto posso dirgli ok ora io sono pieno posso cancellare una di queste sezioni magari vediamo giusto per far vedere cosa succede cancelliamo la playlist sulla popolarità ora andiamo ad aggiungere una sezione tra l'altro tra le cose che si possono aggiungere sono anche i video per chi è abbonato che è una cosa molto interessante da mettere in rilievo così una persona può arrivare sul canale e vederli in questo caso aggiungiamo una singola playlist non abbiamo ancora la parte diciamo di podcast da questo punto di vista però potrebbe essere interessante qui abbiamo tante features in realtà da usare come upcoming live stream per metterli in rilievo se fate tanti live stream usiamo per ora single playlist eccola qui ce l'abbiamo subito è finita in basso giustamente se vogliamo la tiriamo su la possiamo mettere dove 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 ci pare di più andiamo in alto la mettiamo qui ok devo sistemare le playlist poi facciamo salva molto pubblicato andiamo sul canale eccola qua e compare qui ecco lo abbiamo creato e pubblicato restano due domande molto importanti uno è in che modo youtube consentirà la distribuzione in futuro aspettiamo notizie ci sarà la possibilità di avere un feed rss che andrà ad esportare gli audio ci consentirà di essere presenti su tutte le altre piattaforme di podcast inclusa google podcast non dimentichiamo c'era e poi due in che modo youtube come ambiente sociale ha intenzione di aumentare la visibilità dei podcast uno in tutta l'esperienza youtube quindi come ambiente sociale nell'app da desktop come le persone andranno a usufruire dei podcast e quindi di conseguenza in che modo anche all'interno del canale e di tutti i formati che facciamo ha intenzione di mettere in evidenza sappiamo che i podcast in giro si possono seguire si ricevono le notifiche tutta una serie di cose io prevedo che questa cosa delle notifiche verrà cambiata da youtube nel senso che oggi ci possiamo iscrivere al canale abbiamo varie impostazioni ma dal mio punto di vista incomincerà a differenziare queste notifiche ci darà la possibilità di essere più precisi su cosa vogliamo seguire sui singoli canali è un momento importante secondo me sarà un momento importante anche di consapevolezza nei confronti delle persone che potranno incominciare davvero a selezionare queste notifiche in modo più preciso e non credo che cambierà tantissimo da un punto di vista dell'utilizzo dell'utente di quelle che sono le piattaforme però ci sarà più consapevolezza poi ci sono sempre gli algoritmi eccetera eccetera ma credo che piano piano andremo verso la direzione che se da un lato siamo partiti con internet che diciamo tutti i nostri amici tutto quello che volevamo era molto importante poi sono arrivati gli algoritmi che ci hanno detto non è più importante io credo che ci sarà un piccolo bilanciamento ovvero che avremo delle zone dove avremo più controllo su quello che vogliamo seguire quindi penso che la direzione delle notifiche di youtube potrebbe essere quella che con questo diciamo è tutto mi raccomando andate a guardare nella scheda live perché ogni lunedì qui su fast forward facciamo delle live per ora ci stiamo concentrando sull'intelligenza artificiale ma a breve torneremo con tutte le live legate ad altri argomenti come l'analisi dei siti e magari qualcosa su youtube come l'analisi dei mali questi minuti perché le live come due